Hai mai pensato di poter chiudere gli occhi, riaprirli e imprimere come un marchio ciò che la tua mente ha immaginato? Le immagini in movimento sono quelle che il cervello umano afferra e ricorda con più facilità. Frame dopo frame la mente ritorna nel passato o si catapulta nel futuro. Guarda il mondo con occhi diversi, esplora infinite possibilità, rivivi le emozioni ed estendi la tua visibilità. Grazie a tutti. Video Flight. Change your perspective.